In occasione dell'avvio della fiera Tutto Food, che rimarrà a Milano fino al 26 ottobre, la Coldiretti ha pubblicato un'analisi che mostra come nel 2021 il cibo sia diventato la prima ricchezza dell'Italia per un valore di 575 miliardi di euro, con un aumento del 7% rispetto all'anno precedente, nonostante le difficoltà legate alla pandemia. Nel secondo anno del Covid, la filiera agroalimentare italiana ha dimostrato, rileva la Coldiretti, un'elevata capacità di resilienza, con un incremento del fatturato, che accomuna agricoltura, industria e grande distribuzione, mentre la ristorazione ricomincia a crescere dopo un 2020 disastroso. Il risultato è che il Made in Italy a tavola vale oggi quasi un quarto del PIL nazionale e dal campo alla tavola vede impegnati ben 4 milioni di lavoratori, in 740.000 aziende agricole, 70.000 industrie alimentari, oltre 330.000 realtà della ristorazione e 230.000 punti di vendita al dettaglio.